Accedere gratuitamente dal proprio pc, smartphone, tablet e dagli e-reader compatibili a 7500 giornali e riviste di tutto il mondo e a circa 700.000 e-book. Le ultime uscite, quelle commerciali, saranno in prestito per 14 giorni. A queste si affiancano gli e-book di libero accesso. Il portale Media Library Online è una vera e propria biblioteca digitale alla quale aderisce, tra i primi in Piemonte, il sistema delle biblioteche del VCO. Il servizio sarà attivo dal prossimo sabato 21 aprile, un bel modo per festeggiare la giornata mondiale del libro che sarà il 23. È rivolto soprattutto ai giovani questo progetto, leggere, tenersi aggiornati, consultare documenti importanti online, che dà la possibilità di accedere a un patrimonio enorme, semplicemente da casa, nei momenti libri, senza più dover essere soggetti agli orari di una biblioteca, al libro da dove acquistare, sfogliarlo. In che modo sarà possibile accedere a questi contenuti? Ai contenuti si accede gratuitamente, iscrivendosi, se non si è già iscritti, a una biblioteca del VCO. L'iscrizione è gratuita, bisogna recarsi la prima volta sul posto e si ricevono delle password, si ricevono una password, con questa si può poi da lì in avanti accedere al servizio liberamente da casa o dal suo proprio dispositivo mobile. Poi però l'intenzione è di andare oltre anche con altri contenuti? Sì, a breve avremo contenuti legati alla musica di vari generi, sia classica che moderna, diciamo così, per grandi categorie, e poi avremo un'offerta di film, di etichette anche indipendenti di film di tutto il mondo. L'avvio di Media Library Online per la Biblioteca di Verbania coincide con l'inaugurazione della nuova sezione multimediale che è stata spostata dall'ultimo piano al piano terra di Villa Maioni. Uno spazio più facile da raggiungere, più ampio e abbellito dai quadri a tema che, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, sono stati realizzati da Davide Lupi, che frequenta la classe quarta del liceo artistico di Omenia, sotto la guida della prof Alessia Zucchi. Davide ha illustrato alcuni dei più noti personaggi della musica e del cinema, da Audrey Hepburn a John Lennon.